Ah, ma chi è questa rossa? Ah, giugna. E allora, sentite proprio qua. Raccontagli la paesina, Emiliana, chi è? Siete qua. Allora, chi è? Devi tenere. Allora, grazie. Mamma, perché mi brado la temerezza delle tue carenze, il bacio della buonanotte, il tuo salito bevoroto, casa dolce, mano, che mi dà sicurezza, hai incoraggiato i miei passi, hai guidato il mio cammino, con saggezza e con amore, mi hai dato la vita, tu non hai mai pensato di chiedere un grazie. Grazie, mamma. Bravo. Ciao, bacetta, la nonna? Ecco qua. Andiamo andiamo a chiederezza.